Eccoci di nuovo qua, oggi siamo in un'ambientazione un po' diversa, vi ho voluto portare qui nella nostra officina e sullo sfondo c'è una delle nostre centraline di termoregolazione, ma non è di questo che voglio parlare. Una delle domande che ci viene posta spesso è quella relativa ai collegamenti delle tubazioni in uno scambiatore di calore a piastre. Allora tipicamente guardiamo questo foglio di calcolo e questo schema di collegamento, come vedete dal foglio di calcolo e dallo schema di collegamento noi possiamo capire rapidamente quali sono le connessioni alle quali collegare il nostro fluido primario e quali sono le connessioni alle quali collegare il fluido secondario ed anche la direzione dei flussi di primario e secondario. Tipicamente i fluidi viaggiano controcorrente, esistono anche dei dimensionamenti in equicorrente, ovvero i due fluidi che viaggiano nella stessa direzione, ma il funzionamento tipico di uno scambiatore di calore a piastre prevede che i fluidi viaggino in controcorrente. Ebbene la domanda classica che ci viene posta è dovrei invertire il primario con il secondario, dovrei invertire la direzione dei flussi, posso farlo? Nel 90-95% dei casi sì, sicuramente sì. Consiglio sempre di chiedere perché è possibile farlo? Guardiamo questo estratto di questo filmato, come vedete i due fluidi viaggiano in controcorrente e i circuiti sono perfettamente simmetrici, ovvero vuol dire che il circuito primario è uguale al secondario. Solitamente per una legge convettiva si tende a far entrare il fluido caldo dall'alto e farlo uscire dal basso e il fluido freddo dal basso e farlo uscire dall'alto, quindi in controcorrente. Ma se dovessimo invertire i flussi direi che il rendimento dello scambiatore cambia decisamente poco, stiamo parlando forse di qualche 0,00%. In ogni caso questa è una prima risposta, sì possiamo sicuramente invertire il verso e la direzione dei flussi, quindi se da foglio di calcolo risulta che il primario entra dall'alto e esce dal basso e il secondario viceversa entra dal basso ed esce dall'alto, possiamo invertirne i flussi, l'importante è che manteniamo la direzione controcorrente. Possiamo a questo punto invertire primario e secondario? Anche in questo caso sicuramente sì, perché? Perché i due circuiti sono perfettamente simmetrici, ovvero il circuito primario è uguale al circuito secondario dal punto di vista idraulico, quindi il rendimento e il funzionamento dello scambiatore di calore è perfettamente identico, non cambia. Spero gli avervi dato una risposta convincente, in ogni caso suggeriamo sempre di contattarci e chiedere informazioni, perché esistono dei casi in cui i due circuiti non sono simmetrici, ci sono circuitazioni particolari a due passaggi, a tre passaggi, talvolta ci sono delle circuitazioni che vanno rispettate per problemi di drenaggio, uno su tutti quando abbiamo a che fare con il vapore. Il vapore inevitabilmente deve entrare dall'alto in modo che la condensa possa scaricare verso il basso ed essere drenata completamente dallo scambiatore. Si può, con il vapore, invertire circuito primario e secondario, ma in questo caso non si può invertire la direzione del flusso, per il vapore deve essere sempre dall'alto verso il basso. Spero di essere stato chiaro, ritengo che sia un argomento abbastanza interessante e spero di aver dato risposta a tutti.